E' un bando sociale perché è un bando che dove si va a valorizzare la cultura, si va a valorizzare il sapere attraverso un beneficio, un supporto che viene dato, ma è un bando che comunque attiene a quei criteri di trasparenza e legalità che ha voluto anche emanare l'Accademia. Il presidente dell'Accademia Cameristi di Laos, Mauro Limongi, ha spiegato ai nostri microfoni il perché del bando valorizzare la comunità attraverso il sapere, lanciato nei giorni scorsi in occasione del terzo anno di attività della struttura. Abbiamo scelto la giornata del 4 ottobre per lanciare questa proposta, questo bando perché sono tre anni che è nata questa Accademia e non a caso è nata nel giorno anche di San Francesco che era colui che ha sempre professato la carità. A noi piaceva fare questo regalo, era tanto tempo che comunque c'eravamo posti questo obiettivo e finalmente siamo riusciti a costituire un bando che prevede l'erogazione di quattro borse di studio in varie materie, nei confronti di ragazzi che sono comunque dei musicisti o bambini, poi abbiamo inserito le fasce d'età che però siano privilegiati, quelli con un reddito basso rispetto a chi invece può permettersi questo tipo di studi. Borse di studio che daranno accesso gratuito a tutte le attività dell'Accademia. Le quattro borse di studio che saranno nelle categorie del violino, chitarra, canto e clarinetto consisteranno nell'erogazione di un anno di corsi completamente gratuiti all'interno della nostra Accademia. I corsi non saranno soltanto nelle materie che abbiamo indicato che ovviamente saranno delle lezioni settimanali di 45 minuti, in più ci sarà l'elezione gratuita anche del sorfeggio sempre settimanale e in più una serie di attività extra che noi abbiamo sempre fatto, comprese anche le cosiddette gite scolastiche, chiamiamole così, comunque le visite all'esterno dell'Accademia che saranno finanziate totalmente dagli indroiti che l'Accademia dispone dalle casse dell'Accademia nei confronti di questi ragazzi. Quindi tutto sarà a carico dell'Accademia per quanto riguarda il loro percorso e per quanto riguarda le loro attività extra o l'acquisto eventuale di materiale didattico. Un progetto che non vuole sicuramente fermarsi a quest'anno, infatti sono tante le iniziative in programma. Il Comune di Santa Maria del Cedo, il quale quest'anno ci ha messo a disposizione la struttura del Palazzo Marino, già carcere dell'impresa, abbiamo ovviamente intrapreso una serie di attività extra che ovviamente sono fruibili gratuitamente alla comunità. Infatti inizieremo già donando il primo spettacolo alla comunità giorno 11 ottobre, facendo tutta una parodia e la figura teatrale del Cantastorie con un ragazzo di Tortola che si chiama Biaggia Cardi, il quale terrà anche una piccola lezioncina alle ore 17, sempre gratuitamente, ai ragazzi dell'Accademia. Inoltre sarà disponibile da lunedì, martedì, il post di questa settimana. Noi abbiamo stretto la collaborazione con un artista locale che è il signor Francesco Bulzis, il quale io lo voglio ringraziare. L'Accademia avrà un'esposizione di alcune raffigurazioni pittoriche che riguardano i setti vizi capitali e quindi noi non solo occuperemo questa struttura facendo i nostri corsi, ma bensì ci siamo messi a disposizione a tenerla aperta perché non era fruibile ogni giorno. Invece in questo modo noi la teniamo fruibile ogni giorno e cerchiamo di organizzare anche visite guidate per le scuole. Grazie a tutti.